Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break2Play, eccoci di nuovo qua con TF Oggi continueremo la modalità campagna, ho anche il DLC del colpo in banca, The Bank Haste Quindi sarà disponibile, come mi ha detto un'icona qua sopra, insomma una finestra qua sopra La prossima volta torneremo alla torre, siamo alla torre quindi a norma dovrebbe essere sbloccabile adesso, cioè dovrebbe essere giocabile Ora vediamo se facciamo quella, torre dell'orologio, dunque siamo alla torre Dongue, dongue, bottino Eh lo so Beh insomma è un oggetto Qui ci sono i due bracciali, volevo vedere appunto questa cazzo missione del colpo in banca Se riesco a farla partire, forse è qui? No, vedremo Grazie a tutti Ok quindi abbiamo una nuova missione da parte di basso e il nuovo obiettivo è quello di raggiungere basso appunto Però volevo vedere se c'era qualcosa davvero in questa cazzo di missione No Non vedo niente, almeno qui Poi Garrett è molto lento in questa sua casa Non vuole correre Se questo è il giornale No Fermi tutti Documenti Documenti Giornali La collana di stella di Owldale Questa settimana è stata inserita nel cavo della prima banca, immagino sia questa Finché non vedrà Blah 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 È morta in un incendio, ha distrutto la sua antica dimora La stella è sopravvissuta e rispetto a una stabilità che l'incendio è stata accidentale E hanno permesso l'avvio delle procedure e bla 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 Oggi la banca ha annunciato che vi era un'indagine per conto fino a trovare Va bene Quindi In pratica la banca sta cercando i parenti Gli eredi di questa tizia E noi potremo andare a Rubare questo oggetto Fintanto che si trova nella banca ovviamente Andiamo a scendere Aggiungiamo Stone Market E vedremo magari Ora decidiamo se fare la missione del colpo in banca O fare insomma le missioni normali Guardiamo un po' Ok Avviso per tutti in mano nera Da oggi in avanti I cittadini sorpresi a rubare Saranno impiccati Pene più severe per i ladri quindi Niente muta in questa città senza che Basso lo sappia Dice che è un dono Visto il mio lavoro non posso che essere d'accordo Ok allora andiamo a vedere la mappa nel frattempo Visualizza mappa Questa qui Eh Come si facciamo muoverci? Così possiamo Ok Non posso Come fa? Ma Eh dunque Non mi fa vedere altro Qui ci siamo noi Immagino che Vabbè andiamo Forse questa via è la banca Però seguiamo l'indicatore che c'è Probabilmente ci porterà Alla missione principale Però là Le frecce possono usate per rompere il culeggio a distanza Ok Quindi andiamo a prendere magari le frecce quelle spuntate Che sono fatte apposta Per questo motivo Ok Andiamo a montare qua sopra Potrei giurare di aver visto un uomo vestito di nero Che ieri camminava sui tetti di fronte a casa nostra Sui tetti? E chi ci faceva? Non lo so Poi mi sono spostata dalla finestra Se io non lo vedo Lui non mi vede Eh diamine Dunque Per arrivare di là Non mi sento molto Due E tre E quattro Andiamo a aprire Allo? Uh c'è una botola Anche questo addirittura è chiuso a chiave Spero ci sia qualcosa di valore dentro Perché se no Ehi L'avevo visto Eccolo Vediamo cos'è Una foto Cornice Ok No era solo la cornice Quindi possiamo scendere Qui possiamo aprire queste cassette Andiamo a vedere Si scende qualcosa Ok Orecchini E Niente Penso che il prossimo buon acquisto Potrebbe essere quello della Sbircia No sbircia Lo voglio Scusami Ormai non mi fai attivare questa Ehm Garrett Attiva questa No Non gli devi tirare il freccio Vabbè Non vuole attivare Oh Oh Ah Ma sono delle trappole Ah Guardate Ahia Cioè abbiamo pochissima salute Curiamoci Perfetto E a questo punto Andiamo a scendere di qua E a salire qui Ci fa salire Garrett Non vuoi salire Ok Siamo sui tetti Qua sotto A 16 metri C'è il nostro obiettivo Lì c'è una scala Secondo me no Ti si vede la faccia Andiamo a romperla Eh Ci sono le guardie Quindi andiamo sull'asse Bravo Garrett Andiamo a vedere Di raccogliere anche questi oggettini a giro Che fanno sempre comodo Qui c'è qualcosa No Qui niente Dunque Per scendere lì Sì Dobbiamo calarci da lì Per forza E quello Ah Io non ho visto Borsellino Andiamo a scendere qui Ok Un'altra moneta Prendila 9 metri qua sotto Le guardie Non mi pare di vederle più Andiamo a scendere Ok Entriamo La città Black Alley Ok Entriamo E vediamo un po' Cosa ci troviamo davanti Basso Vieni Alcuno vuole vederti Perché me? Forse per il tuo brio Oppure per la tua parlantina Non lo so È il tizio per cui hai rubato l'anello E di aver fatto quello Chi è? È Aureo Quello che contrasta Il salvarone Per conto della gente normale Come te e me O meglio come me Dice cose giuste Ed è raro Di questi tempi Trova qui Per aiutare i poveracci Con il morbo È bello Vedere qualcuno Che fa qualcosa di concreto E Cerca di non essere troppo Hai capito Tu Mi raccomando Passo Felice di vederti Garrett Puoi pagare Vero? Posso permettermelo Sì Allora hai la mia attenzione Per ora Bene Vieni Vieni con me Il barone Il barone predilige Il progresso Al dolore Metallo e pietra Carne e sangue E guarda qui La politica Non mi interessa Ma certo Snobbicolo Che ti gira Al torno Ma credi Di non avere Una parte In tutto questo Sto bene così Ma per quanto Garrett Garrett Scivolo Questa città È anche tua Cos'è successo? Sei svenuto Sei bene? Sto bene Che cosa vuoi da me? Mi serve un libro Ma è l'unico Del suo genere Ancora esistente So per certo Che si trova Da qualche parte Nella casa Dei fiori Quel bordello Frequentato giorno e notte Da gente ricca E famosa La parola d'ordine È discrezione Non mi affido mai Ai ladri Ma In tempi come questi Un politico Che ruba Per delega Non fa una piega Come un ladro Che ruba Per una buona Causa Avrà il tuo libro Mi aiuterai Ad assicurare Un futuro migliore A tutti Lo terrò a mente Ok Come avete visto Il nostro Garrett Fa il duro Però in fondo Ha un cuore buono E non si sente Tanto bene Ok Ok Allora In pratica Dovremmo raggiungere La casa dei fiori Che è quella Dove abbiamo fatto La missione La scorsa volta E Erin A quanto pare Ha già visitato La casa dei fiori E dovremmo andare A trovarla Salve guardia Non c'è nessuno Ok Cerchiamo di evitare Gli scontri Almeno per adesso Teniamo premuto E per passare Qui nel mezzo Cerchiamo di tirare Su questo Pirastro Ok Per fietto Mi sa che abbiamo Tipo cambiato Zona 40 metri A nascondiglio Di Erin Oh cazzo Non è Un posto buono Dobbiamo cercare Di passare Non sembra Facilissimo Di qua mi sa Che cambiamo Zona Io non so Se riusciamo A arrampicarci Proviamo No Allora Il balestriere È lì Questa guardia Se ne sta qui Dobbiamo Passare Di qua No Eccolo Di qua Ok 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 Abbiamo raggiunto Una posizione elevata E siamo più tranquilli Però Non ci sono Modi per passare Di là Perché Comunque Quella È troppo Lontana E Di qua Non possiamo Passare Quindi Intanto Rubiamo Il calice Facciamo Non abbiamo Oggetti A lanciare Però Potremmo provare A usare Questa Guardiamo Lì Se prende Fuoco Ok Proviamo A scendere Oh cazzo Ok Pensavo Di fare Più Veloce Niente Cerchiamo Di fuggire Velocemente Ce li abbiamo Alle spalle Niente Qui non Fuggiamo Cerchiamo Di salire Qui No Merda Ok Rinizieremo Questa parte Noi facciamo Salire Da sopra Ok Addio Mondo Prudele Ok Addio Sei morto Carica Ultimo Salvataggio Yes Allora Dobbiamo Trovare Un'altra Tattica Vesta Della Fuga Non Non funziona Direi Dobbiamo Trovare Un modo Di arrampicarci Forse Da qui C'è Un modo Qui Cos'è Questa E Capitolo 1 Quarantena No Non voglio Affrontare Questo Capitolo Qua Possiamo Arrampicarci No Qua Non possiamo Arrampicarci Dunque Aspettiamo Che quello Venga Di qua Ok Andiamo Di qua Andiamo Di qua Perfetto Ok Era più Semplice Di quello Che pensavo E Qui intorno Qui c'è Un baule Buono 5 Livelli Difficoltà Quindi Qualcosa Di valore A norma Dai Ok E E E E E Ci siamo Quasi Ok Questo Un po I Qui Dai Non fare Bizze Questo Ok Perfetto Andiamo A aprire Guardiamo Cosa ci troviamo Dentro Un sacco Di roba Quindi Allora Una pergamena Ok Quindi Obiettivi Secondari Andiamo A vedere Documenti Stone Market Premi Fuggi 3 Ok Questi obiettivi Premi Fuggi Andremo Poi a Vedere Più Avanti Ci sono Un sacco Di cose Da fare In questo Gioco Comunque Qui Non c'è Niente Mi pare Ok Possiamo Andarcene Di qui Perché Mi sembra Che non ci sia Niente Questa Non si Apre Non c'è Niente Quindi Dobbiamo Tornare Su Probabilmente Dovremmo Anche Cercare Di comprare Quella Chiave Inglese Qui Ok Non c'è Sentito Nessuno E E E Dai Garrett Era Qui Ci stanno Guardando Ecco Il balestriere Là Dobbiamo Riniziare Da capo Dobbiamo Essere Rapidi Solo Che Non mi Riesce Trovare Sempre Il punto Adeguato Vediamo Se Ora Ce la Facciamo In maniera Più Rapida E Ok Manca L'ultimo Dai Eccolo qua Perfetto Vai Aprire Altri Oggetti Ok Perfetto Cerchiamo Di Cioè Di essere Silenziosi Non abbiamo Oggetti Da Però Magari Possiamo Farti Così Di qua Ok Ok Merda Shhh Non c'è nessuno Non c'è nessuno Abbiamo raggiunto Il nostro obiettivo Perfetto Entriamo La città Quartiere Sud Sì È stato Complicato Questo pezzo C'erano un sacco Di guardie Però Almeno ce l'abbiamo Fatta evitare Il combattimento Anche perché Con tutte Quelle guardie Morivamo Tranquillamente In due Secondi Ok Guardiamo un po' Ok Dobbiamo raggiungere Questo vecchio mulino Dove abitava Erin Scegliamo sempre Di utilizzare Le vie Alternative Perché comunque Sono meno illuminate E meno pattugliate Da guardie Sicuramente Anche se Ci saranno Molte meno Possibilità Di fuga Perché sono Dei piccoli Veicoli stretti Salve Andiamo a vedere qui Ok Andiamo Oh Oh Beh Ok Qui c'è un bug audio Sentite La vo Wey Cerchiamo di Scendere Scendere No no Non c'era niente Non c'era assolutamente Niente Bravo Hai detto proprio bene Dunque Da quella parte La casa di Erin Shhh Non c'è nessuno Dunque La luce qui Si può spengere Non sa di no Andiamo a vedere Lì c'è qualcosa Da rubare Un bel Ritratto Tascabile Ah ah Abbiamo un ritratto Tascabile Andiamo a aprire questo Tiene premuto E Andiamo Ad aprire Ok Abbiamo raggiunto Probabilmente Casa di Erin No No Siamo riusciti fuori 44 metri In quella direzione Non voglio scendere Sulla strada Proviamo a rientrare In questa E Dai Ok Dunque Qui c'è qualcosa No Qui Qui c'è un giornale Prendiamolo Prendiamo anche questo Niente Ok Non era il posto giusto Dove passare Sarebbe Ganzo Che queste case Fossero dei passaggi Più Nascosti Della strada Però non tutte Sono Hanno un ingresso Un uscita Ma hanno magari Solo un ingresso Quindi Andiamo di qua Anche questa Probabilmente Sarà solo Una piccola casetta Esplorabile Però Andiamo a vedere Se per caso Ci fosse un passaggio Non voglio fare Un video Lungo Come l'altro Quindi se Ci vorrà tanto Probabilmente lo spezzerò O in due parti Nel senso Che proprio Vi metto parte 1 O parte 2 O interromperò il video Prima di proseguire La missione Allora Qui non c'è niente Qui Non c'è neanche Un'uscita Quindi dovremo Dovremo riuscire Di qui Ok Dai Allora In questa maniera Ci stiamo Allontanando Dal nostro obiettivo Quindi Andiamo di qua Andiamo di qua Vai Garrett Ok Ok Di qua Allora Qui c'è qualcosa Ci sono delle bottiglie Prendiamole Che a volte Fanno comodo E Oggetti Niente 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 Quindi usciamo fuori Mi sa che dovremo Per forza Scendere Salve Salve signori Dunque di qua Saliamo su Con l'artiglio Di Erin Qui c'è un oggettino Un piatto E Dobbiamo scendere Di qua Qui non c'è Nessuno Quindi andiamo a salire Qua sopra Quella È una guardia Sembrerebbe Non riesco a capire Sì È una spada Quasi sicuramente Una guardia Quella è una corda Potremmo usare Questa corda Per passare di là Sarebbe figo Vabbè Questa guardia Si fa una specie Di ronda Quindi andiamo A saltare qua Ok Saliamo sulla corda Anche se No È più Vabbè Saliamo Guardiamo Dove Arriviamo Eh ci sta cercando Come vedete È dall'altro lato Quindi magari dovremmo Potrebbe essere buono Tuffarci qua sotto Oh Com'è Ah ok Non era alta l'acqua Quindi andiamo A vedere Se raggiungiamo Casa di Erin Che è qua sopra Ciao Erin Mulino di Erin Yes Voglio entrare nel mulino di Erin Noi siamo più figli Noi abbiamo la torre dell'orologio Lei si nasconde in un mulino Ok Entra nel nascondiglio di Erin Perché questo è il mulino Mentre poi c'è proprio un nascondiglio Io era di scendere qua sotto Non sono furbo C'erano le scale Potevo usare le scale Ok ci siamo colati È qua sopra Qui non possiamo più riarampicarci Però c'è un oggettino Ah ah Io volevo venire qui a prendere questo Infatti Allora Allora Di qua c'è un modo di andarci Sì Però è tutto chiuso Mentre non è la strada giusta Andiamo a correre Probabilmente qui non ci sono Nei guardi Nei niente del genere Sennò Erin non si sarebbe nascosta qui Quindi saliamo su Ok Andiamo un po' Sì è qua sotto il nascondiglio di Erin Però non ci fa passare qui Sì che sicuramente Ci sarà tipo un nascondiglio Ehi ti hai premuto Y Non osserva Eh Ah Aspettate un po' Eh 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 L'interruttore è praticamente invisibile Braveri Esplora il nascondiglio Perfetto Dovrò camminare sulle punte Stai attento Allora Trappole contro gli intrusi Quindi Immagino corde Piastre a pressione come quelle Eccoli Guardatevi Gli spara la freccia Per chi passa lì sopra Quindi dovremo Cercare di Usare questo Ok Qui una scala Piano Alla bene Dove metti i piedi Garrett Ok Prendi questo Vediamo se c'è Qualcos'altro No Ti hai premuto E Qua Aha Quindi qui c'è qualcosa E Ah forse da qui Infatti qui c'è una botola E però non so come si attivi Vediamo se Come vedete le trappole sono illuminate Ok quindi questo Ah eccolo qua forse E Tac Perfetto Quindi abbiamo Probabilmente Siamo arrivati al vero e proprio Nascondiglio di Erin Eh Che cazzo Non sei mai stato qui Vero? No Decisamente no Erin E Erin Ti ho osservato. Volevo essere te. Siamo così simili. Ma perché anche solo provarci? Esiste già un Garrett? Che cosa vuoi da me? Voglio che rubi una chiave per la verità. Risale a prima che lasciassi casa e diventassi Erin. Ma devi trovarla da solo. Queste sono le regole. Comincia a cercare. Ti dirò quando ci sei vicino. Ok. Dovremmo cercare allora questa chiave per la verità? Siamo una specie di sogno. Probabilmente dovuto a quella cosa, a quel rituale che facevano nella chiesa. Dobbiamo cercare la chiave. Fuochino, va in culo Erin. Fuochino, quindi sta che siamo intorno. Nella freccia? No. Eh, quello? No, quindi non possiamo arrampicarci sopra. Quello? Ancora un po'? Stai calma, eh? Che palle. Ancora un po'. Dunque. Ehm. Eccolo lì. Oh, c'è la mia facciona lì. Madonna che occhiaia. Eh, cosa ti lamenti, però? Eh, ok. È come se Erin volesse farmi trovare qualcosa. Non posso andarmene senza controllare. Eh, giusto. Fin. Aha. Oh, figo. Cos'è? E questo cos'è? Il medaglione. Perché ce l'aveva Erin? Esci dal nascondiglio, ok. Nuovo obiettivo, andiamo a uscire dal nascondiglio. Vediamo se Erin ha qualcos'altro qua dentro. Vabbè, c'è quell'uscita lì. E nient'altro. Tiene premuto E. Una finestra solita. E andiamo a sollevare questo. Ok, siamo fuori dal mulino. Cioè, siamo dentro al mulino, ma fuori dal nascondiglio. Andiamo a scendere. Io direi di concludere qui il video. Proseguiremo da qui la prossima volta. Se il video vi è piaciuto, come al solito mettete mi piace, lasciatemi un commento e iscrivetevi al Break2Play. Un saluto a tutti da Nicolas. Ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti. Ciao. 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 Ciao.